E' finita 1 a 1 la partita di oggi contro il Santa Chiara, vi ritenete soddisfatti di questo punto strappato in questo campo molto difficile? Sì, decisamente sì, anche perché il campo è enorme e loro sono stati veramente bravi e noi eravamo contati, quindi siamo più che contenti, più che soddisfatti del punto, assolutamente. Siete partiti a un ritmo un po' basso, siete riusciti comunque a raggiungere i vostri avversari nel primo tempo, mentre nella ripresa la partita l'avete quasi sempre... Abbiamo sofferto nella ripresa, abbiamo cercato di sfruttare i pochi spazi che ci lasciavano, ripartire, ma è sempre stata durissima, poi loro in mezzo al campo sono veramente bravi. Adesso la stagione sta quasi volgendo al termine. Eh, dobbiamo vincere per forza la prossima, credo, non lo so. Dobbiamo vincere per forza la prossima? La prossima dobbiamo vincere. La prossima partita è contro Europa Sarina, dovete vincere per forza. Vincerete? Assolutamente sì, assolutamente sì. Vi aspettiamo. Ti ringrazio. Ciao, grazie.